Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi del corso di preparazione in materia di funzioni di polizia giudiziaria ci occuperemo delle perquisizioni dei sequestri. Diciamo subito che la perquisizione è un mezzo di ricerca della prova o, in altre parole, un atto attraverso il quale la polizia giudiziaria, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entra nella sfera privata di altri soggetti allo scopo di scoprire elementi che possono consentire l'individuazione dell'autore di un reato o di prove a suo carico. Come ogni altra limitazione della libertà personale, chiaramente la perquisizione trova il suo fondamento nella Costituzione che prevede, per la polizia giudiziaria, agli articoli 13 e 14, il doppio obbligo di eseguire tali atti nei soli casi previsti dalla legge e di chiedere sempre entro 48 ore all'autorità giudiziaria la loro convalida. In sostanza, la perquisizione consiste nell'attività di ricerca di corpi di reato, di cose pertinenti al reato, effettuato attraverso un minuzioso controllo della persona, perquisizione personale, della sua abitazione, perquisizione domiciliare, o di locali a lui in uso, perquisizione locale. Oltre al codice di procedura penale, molte sono le leggi complementari, speciali, che individuano forme e limiti di perquisizione eseguibili dalla polizia giudiziaria. Possiamo riassumere quelle principali. Nella flagranza di reato in caso di evasione, l'ufficiale di polizia giudiziaria procede a perquisizione personale e locale per la ricerca di cose o tracce pertinenti al reato di persone evase. Questo lo stabilisce l'articolo 352,1 del procedura penale. Mi raccomando, ogni volta ripeto sempre, di avere a propria portata di mano un codice, una raccolta di leggi, anche delle banche dati informatiche o telematiche, per poter consultare le norme che io cito. Spesso le leggo, però è bene che voi poi possiate ritornarci e quindi approfondire il dato normativo che è fondamentale. Ancora, diciamo che tra quelle principali rientra il caso di esecuzione di custodia cautelare o di ordine di carcerazione per i reati di quale l'articolo 380 del codice di procedura penale, cioè in caso di esecuzione di fermo di indiziato di delitto, l'ufficiale di polizia giudiziaria procede a perquisizione personale e locale se l'urgenza non consente l'emissione di un decreto di perquisizione da parte del pubblico ministero. Questo lo sapisce l'articolo 352,2 del codice di procedura penale. La legge 48 del 2008, introducendo il comma 1 bis all'articolo 352 del codice di procedura penale, ha previsto che nelle medesime circostanze indicate dal comma 2 dello stesso articolo e nella flagranza del reato gli ufficiali di polizia giudiziaria procedano altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici quando hanno fondato motivo di credere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. Ancora, quando si ha notizia dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato, in qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria, io lo scusa, procedono a perquisizione locale. Questo lo stabilisce l'articolo 41 del testo unico delle leggi di Repubblica Sicurezza. Ancora, in caso di necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria della forza pubblica nel corso di operazione di polizia, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di affrazione di persone in quatteggiamento la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili, procedono a perquisizione sul posto estensibile al mezzo di trasporto. Articolo 4 della legge 152 del 1975. Nel corso di operazione antidroga, quando si è affondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze superfacenti o psicotrofe, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al controllo e ispezione dei mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali in caso eccezionali di necessità ed urgenza, procedono appunto alla perquisizione. Articolo 103 del decreto 309 1990, cioè testo unico su stupefacenti. Nel corso di operazione di polizia finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina, ufficiali agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle esposizioni di mezzi di trasporto e le cose trasportate, ancorché soggette a speciale regime doganale, quando anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti appunto dalle norme. Nelle medesime circostanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni. Articolo 12 del testo unico in migrazione, decreto legislativo 286 del 1998. Trattandosi di attività svolta ed iniziativa, la sussistenza di presupposti stabiliti dalla legge dovrà essere concretamente dimostrata nel verbale di quella perquisizione, motivando l'attività intrapresa con riscontri oggettivi ed elementi inconfutabili. Presupposto essenziale e comune a tutte le diverse polizie di perquisizione affinché la polizia giudiziaria possa procedere alla sussistenza di un fondato motivo, l'abbiamo ritenuto, l'abbiamo ripetuto spesso, per cui si ritiene che l'acoso, le tracce pertinenti al reato, la persona, cioè indagato, evaso, soggetto da sottoporre al provvedimento restrittivo della libertà personale, che si sta cercando rintracciando, si trovi in un determinato luogo, ovvero occultata su di un determinato soggetto, a seconda che si tratti di perquisizione locale o personale. Come abbiamo visto, il testo dell'articolo 352 del procedura penale fa esclusivo riferimento ai suoi ufficiali di polizia giudiziaria a quali soggetti legittimati apporre in essere la perquisizione. L'articolo 113 di disposizione di attuazione al codice del procedura penale tuttavia estende tale potere anche agli agenti di polizia giudiziaria a ricorrere di situazioni di particolare necessità e urgenza. O qualora invece la polizia giudiziaria sia delegata dal pubblico ministero allo svolgimento di una perquisizione da quest'ultimo disposta, non dovrà dimostrarsi la sussistenza di alcun presupposto e il verbale dovrà limitarsi a riferire le modalità di esecuzione dell'atto. In questa circostanza la polizia giudiziaria avrà altresicura di notificare all'interessato il decreto con il quale il pubblico ministero ha disposto appunto la perquisizione. Oltre a stabilire casi e limiti di perquisizione, la legge definisce anche le modalità con le quali devono essere eseguite, in particolare bisogna rispettare alcuni importanti adempimenti. Se si ricerca una cosa determinata la polizia giudiziaria deve preventivamente invitare il perquisito a consegnarla e se la cosa è presentata si può procedere alla perquisizione solo se la si ritenga utile per il proseguire delle indagini. La perquisizione personale eseguita nel rispetto della dignità e nei limiti è possibile del pudore di chi vi è sottoposta. Ad essa deve procedere persona dello stesso sesso del perquisito salvo i casi di impossibilità o di urgenza assoluta. La perquisizione domiciliare non può essere iniziata prima delle sette e dopo le venti, salvo disposizione contraria ed esplicita dell'autorità giudiziaria in caso di delega, ovvero quando il ritardo potrebbe progiudicare l'esito della perquisizione di iniziativa. Prima di procedere alla perquisizione non è interessato è avvisato dalla facoltà di farsi assistere o rappresentare in caso di perquisizione locale da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea, cioè maggiore di 14 anni, non palesemente affetta da infermità mentale o in stato di manifesta ubriachezza o intassicazione da sostanze stupefacenti o sottoposta a misure di sicurezza redentive o a misure di prevenzione. In ogni caso il difensore ha facoltà di assistere ma non il diritto di essere preventivamente avvisato. Prima di procedere a perquisizione su delega, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'interessato, ovvero in caso di perquisizione locale alternativamente a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo a un congiunto, un coabitante, un collaboratore, il portiere. Oricchini fa le veci in un clic chiuso. Qualora non si possa provvedere in questo modo, copia del decreto è depositata presso la cancelleria o la segretaria dell'autorità giudiziaria che procede e di tale deposito è affisso un avviso sulla porta del luogo perquisito. In caso di perquisizione locale delegata, l'autorità giudiziaria può disporre che siano perquisite anche le persone presenti o sovraggiunte quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato, cose pertinenti al reato e può ordinare che nessuno si allontani prima dei termini dell'operazione. Per quanto riguarda il verbale di perquisizione di iniziativa, questo oltre a contenere le informazioni di rito, cioè data o reluogo della verbalizzazione, lo svolgimento della perquisizione e generalità del personale operante, dovrà precisare nel dettaglio sia le motivazioni che hanno condotto al compimento dell'atto, sia le modalità di esecuzione dello stesso, descrivendone lo svolgimento. Questo verbale dovrà essere poi trasmesso entro 48 ore alla Procura della Repubblica competente per la successiva convalida. Nel caso di perquisizione delegata, il verbale dovrà limitarsi a dare atto dello svolgimento di quanto disposto dal Pubblico Ministero e adesso dovrà essere trasmesso senza ritardo, sarebbe opportuno rispettare lo stesso termine di 48 ore di qui sopra, unitamente a copia del decreto di perquisizione debitamente notificata alla persona interessata. In ogni caso il verbale di perquisizione dovrà essere sottoscritto alla persona perquisite e da quelle eventualmente presenti al compimento dell'atto. Ricordiamo che l'articolo 17 del decreto di attuazione della legge delega di riforma del processo penale, la cosiddetta riforma cartabia, ha modificato l'articolo 352 del Codice di perquisizione penale in coordinamento con la nuova disciplina in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione. Al comma 4 è aggiunto un periodo finale in cui si conferma che il Pubblico Ministero debba comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato. Con l'introduzione del nuovo comma 4 bis si specifica che, salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni, dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona alle cui confronti vengono svolte le indagini e la persona alle cui confronti la perquisizione sarà disposta e eseguita, possono proporre opposizione. La giurisprudenza ci ricorda che l'avviso al soggetto sotto vostra perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è previsto che la perquisizione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre questa formalità non è richiesta per le perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di assistervi senza diritto di essere però preventivamente avvisato. Il processo verbale, esempio, di constatazione redatto dal personale dell'Agenzia delle Entrate per la sua natura di atto amministrativo extra-processuale non presuppone l'obbligo di avvisare il soggetto sottoposto a verifica fiscale della facoltà di farsi assistere a un difensore di fiducia. Ecco, è importante ricordare che in materia di traffico di sostanze stupefacenti la disciplina in materia di perquisizione non è applicabile quando la polizia giudiziaria, anche al di fuori degli spazi doganali, si limita in ragione del potere conferito dal secondo comma dell'articolo 103 che l'abbiamo citato, del testo unico stupefacente, a controllare e di inspiccere, così si dice, cioè a guardare quello che è immediatamente visibile nel veicolo, nei bagagli e negli effetti personali di un soggetto. Il sequestro, così come per la perquisizione, anche il sequestro è un mezzo di ricerca della prova, ossia un'attività in base alla quale può essere individuata e provata la responsabilità del soggetto nel compimento del reato. In sostanza il sequestro è l'atto attraverso il quale l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria nel rispetto dei limiti di legge si impossessano dei beni mobili e immobili detenuti da altri soggetti e li conservano senza deteriorarli in attesa del processo, in quanto questi serviranno al giudice per valutare se quello o altri soggetti abbiano commesso il reato a loro addebitato. Possono essere sequestrati soltanto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessario per l'accertamento dei fatti, così come per la perquisizione il sequestro può essere eseguito di iniziativo su delega dell'autorità giudiziaria. In taluni casi, o cioè accertamenti urgenti, se vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti a un reato si alterino o si disperdano comunque, si modifichino e il PM non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose e se necessario sequestrano il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti, articolo 354,2 del codice di procedura penale. Poi, sequestro conseguente a perquisizione, qualora nel corso della perquisizione sia rinvenuto il corpo del reato o cose pertinenti al reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di necessità d'urgenza, anche gli agenti di polizia giudiziaria le sottopongono a sequestro. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo. Sequestro su delega dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria danno esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero rilasciando una copia dell'interessato se presente. Art. 253, procedura penale. Poi, sequestro preventivo, quando vi è pericolo e la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati e non è possibile attendere il provvedimento del giudice, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a sequestro. Art. 321, procedura penale. In ognuno dei casi elencati, fatta eccezione per l'esecuzione di un provvedimento di sequestro delegato dal PM, il verbale di sequestro dovrà essere trasmesso entro 48 ore dal termine delle operazioni al Pubblico Ministero per la successiva convalida. Dovrà contenere le informazioni rituali e inoltre descrivere minuziosamente le ragioni del sequestro, l'elenco delle cose sequestrate, le misure approntate e al fine di impedirne la distruzione, accidentare o il deterioramento. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla Concelleria o alla Segretaria del Pubblico Ministero in caso di beni immobili o beni immobili registrati e si sono consegnate con un apposito verbale a un custode giudiziale che all'atto della consegna ha avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta giudiziaria non chiede le pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce i doveri di custodia. Il verbale di sequestro dovrà sempre essere sottoscritto dalla persona alla quale le cose sono state sottratte che ne riceverà poi copia. Andiamo avanti e facciamo una breve ricapitolazione. L'articolo 354 del codice di procedura penale stabilisce che gli ufficiali agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Questo dice l'articolo 1. È evidente quindi che uno dei principali compiti funzionali della punta polizia giudiziaria è quello di vigilare affinché la situazione materiale presente dopo la commissione del reato non venga modificata e alterata prima che sopraggiunga il magistrato dominus delle indagini al fine di consentire una più corretta ricostruzione dei fatti ed evitare che l'accertamento degli stessi sia reso difficile o addirittura impossibile. Se l'intervento tempestivo del pubblico ministero non è possibile e questi non ha ancora assunto la direzione delle indagini ma sussiste il rischio che le tracce o le cose pertinenti al reato si disperdano o vengano alterate, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono effettuare rilevi tecnici che si ritengono necessari in relazione al caso concreto, rilevi che possono avere ad oggetto luoghi, cose o persone ma che non possono consistere in ispezioni personali che in ragione degli elencati, delineati interessi individuali sui quali incidono possono essere eseguiti solo dall'autorità giudiziaria. Le modalità di esecuzione dell'attività di accertamento e di rilevamento della polizia giudiziaria vengono organizzate secondo le condizioni di tempo e di luogo e la natura delle indagini in corso. Nelle ipotesi in cui l'accertamento verta su dati, informazioni, programmi, sistemi informatici o telematici, lo avevamo accennato, gli ufficiali di polizia giudiziaria provvedono alla conservazione del materiale probatore attraverso l'adozione di accorgimenti specifici di natura tecnica e cautelare e precludono la possibilità di interventi manipolatori da parte del personale non autorizzato. Laddove gli strumenti di circostanza lo consentono provvedono alla incorporazione dei dati su supporti materiali in maniera tale che il relativo contenuto sia riprodotto e cristallizzato senza pregiudizio alcuno per l'integrità e autenticità delle informazioni da acquisire. Se è del caso la polizia può disporre il sequestro di cosa? Del corpo del reato, cioè mezzi attraverso i quali l'abbiamo detto il fatto criminoso viene compiuto, cose che rappresentano il prezzo, il prodotto, il profitto dell'ilecito, delle cose pertinenti al reato, cioè strumenti o mezzi legati anche per via indiretta alla fattispecie criminosa che consente di rilevare dati utili per la ricostruzione e l'accertamento dei fatti relativi a compimento dell'ilecito e informazioni sull'autore dello stesso. Il nostro ordinamento macenato conosce tre differenti tipi di sequestro, probatorio, articoli da 253 a 265 del codice di procedura penale, conservativo, articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale, preventivo, articoli 321 a 323 del codice di procedura penale. Quello configurabile nel caso di specie è assimilabile al sequestro probatorio che ricorre quando una determinata cosa viene sottratta alla disponibilità di un soggetto e vi si impone un vincolo di indisponibilità allo scopo di evitare che ne venga mutata la consistenza materiale recando pregiudizio al corretto accertamento della verità processuale. La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato solo ricorrendo a taluna delle ragioni d'urgenza indicate dalla norma. La loro eventuale insussistenza rimane tuttavia superata dalla convalida del sequestro da parte del pubblico ministero potendosi nell'eventuale giudizio di riesame far questione soltanto della legittimità del sequestro medesimo. Detta legittimità è da escludersi quando pur trattandosi di corpo del reato non sussista alcuna finalità probatoria. Ricordiamo pure che la polizia giudiziaria quando agisce di propria iniziativa e non su delega del pubblico ministero prima di procedere al sequestro deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere a un difensore di fiducia. Questo è molto importante, lo stabilisce anche ai sensi dell'articolo 114 dell'isposizione di attuazione del codice di procedura penale in quanto anche il sequestro come le ispezioni e le perquisizioni rientrano nella categoria degli atti per i quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore all'inizio di operazioni. La violazione di questo obbligo determina una nullità al regime intermedio la quale essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari è sanata se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado. La giurisprudenza altresì specificato che in tema di attività di polizia giudiziaria non sempre è necessario procedere al sequestro delle cose pertinenti al reato. Esso va disposto con tutte le formalità indicate dal codice ogni qual volta la cosa che ne costituisce l'oggetto appartenga a terzi essendo il suo effetto tipico la perdita per il proprietario o possessore della disponibilità del bene da sequestrare. In tema di sequestro probatorio in particolare delle cose che assumono la qualifica di corpo del reato non è richiesta la dimostrazione della necessità del sequestro in relazione all'accertamento dei fatti. Tuttavia il pubblico ministero dovrà motivare convalidando il sequestro in ordine alla stessa configurabilità quali corpo del reato delle cose sottoposte a vincolo. Abbiamo accennato ed è importante ricordare che è valida la nomina del custode fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'incombente anche di propria iniziativa senza che questa nomina debba essere delegata espressamente dal pubblico ministero. Quando infatti al sequestro procede di sua iniziativa un ufficiale di polizia giudiziaria non è necessario che gli chieda al magistrato il nome di un custode ma nel disporre il sequestro gli ha la facoltà di nominare un custode e di apporre i sigilli. Convalida del sequestro e suo riesame se la polizia giudiziaria procede al sequestro del corpo del reato delle cose pertinenti al reato redige un verbale nel quale vengono indicate le ragioni poste a fondamento dell'atto e una copia viene consegnata al soggetto al quale le cose sono state sequestrate. Questo verbale inoltre deve essere trasmesso al pubblico ministero competente senza ritardo e comunque entro due giorni. Articolo 355,1 del codice di procedura penale. In pratica se l'articolo 354,2 del codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di disporre di sequestro probatorio alle condizioni ivi previste, l'articolo 355 disciplina gli adempimenti successivi che dovranno essere posti in essere dalla stessa polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, tra questi di particolare importanza riveste l'emissione del decreto di convalida da parte dell'organo dell'accusa attraverso il quale viene effettuato un primo vaglio di legittimità della misura ablativa, cosiddetta, disposta di iniziativa della polizia giudiziaria. Viene disseminata attesire il rimedio esperibile dal soggetto avendo interesse al fine di promuovere un controllo dell'autorità giudicante. Il rappresentante della pubblica accusa, cioè il pubblico ministero, entro le successive 48 ore, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti legali, in questo caso una copia del decreto di convalida viene notificata alla persona alla quale le cose sono state sottratte e dispone la restituzione delle cose sequestrate quando mancano i requisiti stabiliti dalla legge. In virtù dei principi generali vigenti in materia di provvedimenti restrittivi si deve ritenere che la mancata convalida nelle 48 ore da parte del pubblico ministero determina l'inefficacia del sequestro originariamente disposto. In vero il sequestro operato di propria iniziativa della polizia giudiziaria non perde efficacia se nonostante il relativo verbale sia stato trasmesso al pubblico ministero oltre il termine di 48 ore e la convalida da parte dello stesso pubblico ministero sia intervenuta entro le complessive 96 ore dall'esecuzione del sequestro medesimo. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Ricordiamo anche che ai fini della decorrenza dei termini per la convalida del sequestro occorre fare riferimento non al momento in cui viene redatto il relativo verbale ma a quello in cui la polizia giudiziaria compie materialmente l'atto che costituisce il sequestro. Per tale ragione deve tuttavia intendersi quello in cui la cosa viene sottratta al possessore al fine specifico di sottoporla al vincolo. Quando invece la cosa, ad esempio un telefono cellulare, viene trattenuta per l'espedamento di controlli di accertamenti, la sua materiale a prevenzione non è sufficiente a far decorrere il termine. Contro il provvedimento che dispone la convalida del sequestro può essere proposta richiesta di riesame a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale, entro il termine di 10 giorni che decorre dalla notifica del decreto dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia dell'avvenuto sequestro. La giurisprudenza ci ricorda che la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate sono prescritte per consentire a questa di chiedere il riesame proprio del provvedimento di convalida, ma una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso in esatto adempimento di queste formalità non incide sulla legittimità del sequestro. I soggetti legittimati a chiedere il riesame sono l'indagato, soggetto a cui carico la magistratura compie indagini, ma nei confronti del quale non è stata formulata ancora l'imputazione, il difensore dell'indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, cioè il soggetto che dopo essersi trovato a non poter disporre del bene sottoposto a sequestra, interessa ripristinare a suo favore la situazione di libera e incondizionata facoltà di utilizzazione del bene stesso senza le limitazioni conseguenti al provvedimento autoritativo disposto. La persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate, ancora un altro soggetto, soggetto anche diverso dal proprietario, o da chi vanta un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene che ha un titolo derivante anche da un rapporto obbligatorio in virtù del quale ha diritto di ottenere il possesso e la detenzione del bene. La richiesta di riesame non produce alcun effetto sospensivo del sequestro disposto. La giurisprudenza tra l'altro sottolinea che la richiesta di riesame del degrado di convalida del sequestro proprietario deve essere proposta entro diecigione dalla data di notifiche del provvedimento, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Questi termini sono rapportati a differenti situazioni, essi decorrono dalla data del vincolo reale, se è avvenuto in presenza di legittimato al riesame, dalla data della notifica, se è stato effettuato oppure dalla data in cui l'interessato ha avuto l'effettiva conoscenza del sequestro. E questo si riverbera chiaramente su tutte le varie fasi processuali. Per quanto riguarda invece, ecco, abbiamo anche l'altra ipotesi di acquisizione dei plichi e di corrispondenza. Infatti l'articolo 353 del corso di giura penale stabilisce che quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette al pubblico ministero per l'eventuale sequestro, se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa, o il mezzo più rapido del pubblico ministero, il quale può autorizzare l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro, gli ufficiali di polizia giudiziaria in caso di urgenza ordinano a chi preposta al servizio postale, telegrafico, telematico, di telecomunicazione, di sospenderne l'inoltro. Se entro 48 ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone di sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati. In altre parole, la polizia giudiziaria, titolare di poteri investigativi, evidentemente, può acquisire la corrispondenza che abbiamo elencato, inclusa quella in forma elettronica o inoltrata in via telematica, tuttavia tramite i suoi ufficiali all'obbligo di consegnare quanto rinvenuto all'autorizzazione giudiziaria senza aprirlo né prendere in un'altra maniera visione del contenuto, tranne i casi di urgenza dovuti a ragioni di tipo investigativo nei quali il pubblico ministero ne consente l'apertura immediata e l'accertamento dell'antico contenuto. La razio di questo assunto trova giustificazione nel fatto che la libertà e la segretezza della corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione, essendo inviolabili e costituzionalmente garantiti nei sensi dell'articolo 15 della Costituzione, possono essere limitate solo mediante apposito provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. In casi particolarmente urgenti abbiamo accennato quando vi è ragione di ritenere che le lettere e i plichi siano diretti all'imputato, siano stati da lui spediti o che comunque possano essere collegate al reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno il potere di ordinare il soggetto di servizio postale, abbiamo visto la sospensione dell'inoltro, se però entro due giorni il pubblico ministero non provvede al sequestro, in questa corrispondenza essa viene inoltrata. Andiamo avanti e adesso ci occupiamo dell'assistenza del difensore. il diritto di difesa, l'abbiamo accennato più volte nel corso della lezione, il diritto di difesa nei casi in cui la polizia giudiziaria compie attività investigativa di propria iniziativa non è garantito in realtà in maniera molto rigorosa, tuttavia l'articolo 356 del codice di procedura penale riconosce al difensore dell'indagato la facoltà di assistere a compimento di determinati atti di indagine, quale la perquisizione e accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, il sequestro e l'immediata apertura di plichi sigilati su autorizzazione del pubblico ministero. Nell'ipotesi sopra riportate il difensore non ha alcun diritto di essere preavvisato del compimento dell'atto, questo assunto trova fondamento nel fatto che gli atti di cui si tratta sono per loro natura eseguiti a sorpresa per evitare i rischi di inquinamento approbatorio. L'articolo 114 di disposizione di attuazione del codice di procedura penale, l'abbiamo accennato, a sua volta impone alla Polizia giudiziaria nel procedere al compimento degli atti indicati dall'articolo 356 soltanto l'obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere appunto dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore nell'obbligo di nominare un difensore d'ufficio nel caso l'indagato non intenda farsi assistere da chi che sia. Non costituisce quindi violazione dei diritti di difesa dell'indagato né il mancato avviso al difensore né l'aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l'arrivo del difensore qualora questi abbia comunque avuto notizia dell'imminente perquisizione e intenda parteciparvi. L'inosservanza dell'articolo 114 di disposizione di attuazione del codice di procedura penale non determina nullità di ordine generale assoluta per violazione dei diritti della difesa, ma nullità a regime cosiddetto intermedio di ordine generale che essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari ed essendosi quindi verificata necessariamente prima del dibattimento deve essere eccevita non oltre il giudizio di primo viato. Diversamente per le ispezioni e perquisizioni in materia di stupefacenti previste dall'articolo 103, l'avevamo già accenato più volte, il testo unico di stupefacenti non si applica alla norma dell'articolo 356, cioè assistenza del difensore, se quelle attività sono svolte nell'ambito di finalità preventive prima dell'acquisizione della notizia criminis. La notizia confidenzialmente appresa, ma non ancora in alcun modo verificata dagli agenti di Polizia giudiziaria, non può ritenersi notizia di reato, potrà diventare tale solo all'esito positivo della perquisizione di altro elemento di prova che confermi l'informazione del confidente. Cassazione 11908 del 1992. Bene, io direi che per oggi possiamo fermarci, ci vediamo alla prossima lezione, grazie.